Francesco Di Fulvio, ci siamo, l'Olimpiade è alle porte. Ci siamo, finalmente. Siamo arrivati ieri, oggi ci rimane l'apertura, poi tra due giorni ci andiamo a fare la prima partita con gli Stati Uniti. Penso che non poteva esserci un inizio migliore. Ci alleniamo non da quattro anni, ma da tutta la vita per fare queste partite, quindi non vediamo l'ora di giocare. Sarà la tua terza Olimpiade. Che sensazioni nuove ci sono rispetto a quelle passate? Ma è tutto nuovo, tutto nuovo. Quando metti piede nel villaggio è completamente diverso dalle europee, dai mondiali, dalle varie Champions League. Qualcosa di nuovo, di unico, ogni Olimpiade era qualcosa di unico. Anche questa lo sarà, tutti gli impianti, la piscina molto bella, c'è entusiasmo. Quindi siamo contenti e, ripeto, non vediamo l'ora di iniziare. Cosa ha il Settebello in più degli altri e cosa ha magari in meno? Ma questo lo vedremo durante il torneo. Secondo me deve avere in più la tenuta mentale perché, penso, lo sanno tutti, saranno l'Olimpiade, penso, la più competitiva delle ultime edizioni. Sono sette, otto squadre che possono essere sul podio, possono ambire a vincere, quindi i dettagli faranno la differenza, la tenuta mentale di ogni singola partita e poi la lunga farà la differenza. Il Settebello è gruppo? È gruppo. Grazie.